Ragazzi, allora, buona giornata a tutti, vigilia di Juventus Maccabi Haifa, hanno parlato Scesni e Allegri Conferenza stampa cupa, veramente una cosa... domande fatte, risposte scontate Poi, Scesni che se ne esce, veramente qua bisogna dire poco o nulla perché hanno detto nulla Però, Scesni che se ne esce, che in Champions League è fondamentale la solidità difensiva Che è una grande cazzata perché già mi fa cagare il calcio italiano e lì però puoi anche dirlo In Europa conta la fase offensiva, non la fase difensiva Però vabbè, mentre Allegri dice, ha risposto a una domanda La partita più importante è sempre quella che dobbiamo giocare più prossimamente, no? Ah sì, perché dopo la Fiorentina io mi ricordo che il signor Massimiliano Allegri Tu, carissimo, hai detto che la partita più importante sarebbe stata col Benfica Ha ridosso la partita col Paris Saint Germain Quindi, dove sta? Dove sta la verità? A parte che la verità non stava all'epoca Perché quando mi sono incazzato per quelle dichiarazioni Eh vabbè, ma ha ragione, ha ragione un cazzo Perché tu devi partire sempre con la mentalità di vince, no? O vince non è importante, è l'unica cosa che conta solo quando comoda E solo quando siete sicuri di vince in un campionato merdoso Ok, boh, no perché Quando mi sono incazzato quella volta Mi sono incazzato per un semplice motivo Perché se tu vai con la mentalità Che poi puoi anche perdere Ma te la giochi Vai con la mentalità del dire Vado a Parigi per vincere Magari può anche capitarti che un pareggio o una vittoria Ti scappa, ok? E poi non devi rincorrere così Proprio con l'acqua alla gola Cosa che devi fare adesso Perché poi, partendo così Ti saresti trovato col Benfica a fare una finale E poi sappiamo che noi le finali perdiamo, no? Praticamente, ecco Questo è Cioè, noi siamo in questa situazione di merda Perché già a livello mentale Questi qua sono partiti in una maniera uscena All'inizio del girone Prima di partire col girone di Champions League A partire dall'allenatore Massimiliano Allegri E io li ho visti cupi oggi Ma secondo me Anche prima della partita col Bologna e dopo Secondo me Questi qua hanno avuto una strizza E sono stati veramente criticati A parte dei tifosi Ma secondo me sono stati veramente richiamati anche dalla società E qualcuno di loro Compreso Allegri Sa benissimo che questo mese è un ultimatum Per questa stagione Dico Perché per me In estate comunque Se ne va e se ne deve andare A prescindere dal risultato Anche ripeto Se dovesse vincermi lo scudetto Perché non me ne frega un cazzo Che vinco e perda uno scudetto Che sarebbe il 39esimo O rimarremo al 38esimo Sinceramente cambia poco Però Ovviamente Lo festeggi Sei contento Però Per quanto mi riguarda Cambia poco Ok Credo che qualsiasi Anche l'antiallegriano Più convinto Che per me è sbagliato Dichiararsi così Però Se Voi gli diceste Ma Se Allegri le vince tutte Giocando di merda E ti vince lo scudetto a fine anno Ma se ne va Sono sicuro Che tutti I tifosi Juventini Comunque Anche quelli più Antiallegriani Sarebbero qua Tifare La Juventus Anche per vincere 1-0 Sapendo che sarebbe l'ultimo anno In supportazione Di questo allenatore qua Ok Quindi Questo è Però Al di là di questo Torniamo sul Maccabi Aifano Ci sono state queste cose qua Che veramente Una contraddizione Una Unica Praticamente Di Massimiliano Allegri Perché Poi quando si diceva No ma Allegri non tira mai fuori Le giustificazioni Gli infortuni Gli arbitri Fatalità Quest'anno ha tirato fuori tutto L'anno scorso Il battello di Venezia Addirittura Sembrava Sarri Quest'anno ha tirato fuori tutto Perché ragazzi L'allenatore medio Come un po' il tifoso medio Ehm Non tira fuori alibi Quando vince Perché poi dice Vabbè Mi manca questo Mi manca l'altro Mi manca quell'altro Ma sono comunque La squadra meno scarsa Il campionato italiano Vinco E magari Hai anche torte arbitrali Contro e quant'altro Ma vinci Passa tutto In cavalleria No Però poi Quando Sei messo nella merda E sai benissimo Che hai le spalle al muro Come allenatore Massimiliano Allegri Cerca di giustificare I propri fallimenti Tirando fuori Il discorso Della salernitana Di queste stronzate qua Che è grave Che è grave il concetto Di quell'errore lì Ma non Per tirare fuori Quella roba lì Come alibi E gli infortuni Eh vorrei vedere Vorrei vedere Il Milan adesso Contro di noi Avrà un casino Di assenti Però Empoli Con assenti Infortuni Anche durante la stessa partita Comunque Ha vinto 3-1 Soffrendo Rischiando E per carità È una delle poche partite Che il Milan Ha rischiato veramente Di non vincere E di perdere Ok Però Questa è la differenza Se noi quando vincevamo Vincevamo Nonostante Un rigore non dato Su Mandzukic E l'espulsione Di Mandzukic Per proteste E noi in 10 contro 11 Vincevamo 6-2 Udine Capite? Questa è la differenza Abbiamo vinto 3-2 contro l'Inter Con Bentancur Espulso Tutto il secondo tempo Ingiustamente Abbiamo vinto 3-2 contro l'Inter E poi abbiamo vinto Scudetto E avevamo la qual La gola lì Con l'ampoli dietro E lì Allegri ha rischiato Addirittura di perdere Per la seconda volta Uno scudetto Da favorito Dopo aver perso Quello Col Milan Contro di noi Con la Juventus di Conte Ok Ma lì Quando si parla Dell'espulsione di Pjanice Che è una stronzata Noi abbiamo Avuto due Episodi Prima di quell'espulsione Non data Di quella Seconda munizione Non data Che poteva Già sancire La nostra vittoria lì Un uomo in più Rigore non dato Iguain A fine primo tempo Vai sul 2-0 Se lo segni Ovviamente Bisogna segnarlo O sull'1-1 Rigore non dato Amato ID E vai sul 2-1 Con un uomo in più Quindi Quelle cose lì Non si contano Però lì Comunque abbiamo vinto La partita Nonostante gli errori Arbitrali Contro di noi E in altre circostanze Hai vinto Hai vinto gli scudetti Ragazzi Le giustificazioni Gli alibi Non li tirava fuori Allegri Perché sapeva Che comunque Dietro Era la squadra Più forte del campionato Comunque meno Scarsa del campionato E vinceva Tant'è che poi In Europa Quando uscivi Con Real Madrid Ma anche Ci metto Il sottoscritto anche Che si è incazzato Con Real Madrid Con Bayern Monaco E quant'altro Anche se poi Nei giorni successivi Ho dato la colpa Comunque principale Ai nostri Allenatore Alle sue scelte Ai nostri giocatori Ok Però In Europa Poi arriva il presidente Dopo il Bayern Monaco Scende in piazza A dire No Dopo Real Madrid Era A incazzarsi Bisogna avere rispetto Per le squadre italiane Che per carità ci sta Però Questo vi fa capire Che poi Quando si perde E si esce Da una competizione In quel modo Ci si lamenta C'è poco a fare Perché comunque Non hai la garanzia Che l'anno dopo Essendo la Juventus Ragionando in quella Maniera di merda Che Con la quale ragiona La società E anche questo Notore qua E molti tifosi anche L'anno dopo Poi saresti Comunque stato Quei livelli E quindi ti senti Mangiata Un'opportunità Mentre magari A Madrid Anche se hanno Un torto arbitrale O il Bayern Monaco Anche se hanno Un torto arbitrale Anche quella volta Che hanno avuto L'esplosione di Vida L'ha andato Di supplementare E quant'altro Si incazzano Però poi Guardano già L'anno dopo Sanno che comunque L'anno dopo L'anno successivo Saranno ancora lì A giocarsi Alla Champions Noi no Quindi questo È per farvi capire Che poi è facile Dire Non tiriamo fuori Gli alibi Quando sappiamo Che comunque In Italia Siamo destinati A vincere Siamo destinati Comunque a essere La squadra Più vincente In Italia Il problema Il problema è poi In Europa Che lì Ci trasformiamo Nei napoletani Cioè questa È la differenza Purtroppo Quindi questo Giusto per dire Anche appunto E poi Ha parlato Di una squadra Di una rosa importante Cioè Capisco Tu devi dire Non dobbiamo Sottovalutare nessuno E se domani Non vinciamo Mi incazzo Con i giocatori Eh vabbè Metti pressione I giocatori Contro Makabi Haifa Devono avere Mille pressioni Questi qua Per vincere Contro Makabi Haifa Che non è da sottovalutare Questo va detto Non dobbiamo Sottovalutare Makabi Haifa Ma dire Che è una rosa Importante Che giocano Bene Che hanno rischiato Col Benfica Di non perde Anche col PSG Cioè queste sono Cazzate Cioè boh E poi il fatto Di rimarcare Il discorso Di non dobbiamo Avere fretta Ansia e quant'altro E secondo me Questo invece Incentiva il fatto Che domani Avranno ansia In certi In certi momenti A partita E Dobbiamo ripetere La prestazione Contro Bologna Anche no Perché non è stata Una buona prestazione Col Bologna Ragazzi Non è stata Una buona prestazione Neanche col Bologna Abbiamo palleggiato Abbiamo dominato Hai vinto 3 a 0 E vi ho già detto Come abbiamo fatto i 3 gol Che cazzo di buona prestazione È stata col Bologna L'ho detto ieri nel video Ma che cazzo Cioè Ma Ma anche no Ma anche no Le belle prestazioni Sono altre Quelle dove Ci lavori A livello Meccanico Schematico Tecnico Sovrapposizioni Movimenti senza palla Triangolazione Quelle Sono belle Prestazioni Quelle Sono belle Ma anche Holland Con noi Farebbe fatica Adesso A fare I gol Che ha fatto Col City Ma dai Poi Sesni Per concludere Il discorso di prima Dice È importante Avevare una fase Difensiva Perché se hai una fase Difensiva È anche un'ottima fase Difensiva È una cazzata Questa Sulla fase Offensiva Ci devi Lavorare Almeno Quanto La fase Difensiva Se non Addirittura Di più Questa è la mentalità italiana E per questo Per me In estate Deve esserci un restyling Sia sulla guida tecnica Sia in società Sia anche Nei giocatori Perché qua Va cambiata anche la mentalità Che deve essere più europea Non italiana Dobbiamo diventare più europei Come mentalità C'è poco a fare Sono ristretti A quello che viene inculcato Qui in Italia A livello calcistico E a parte In rari casi Difficilmente Questa mentalità Qui farà riaprire Nuovi cicli italiani Dobbiamo cambiare Anche noi Dobbiamo cambiare Il che non significa Rivoluzionarsi Ma cambiare Modificarsi un po' Sì Sicuramente Questo sì Dobbiamo modificarci Un po' Questo è ragazzi Detto questo Veramente La conferenza stampa Che Diciamo Sono stato anche Bravo Tra virgolette A tirare fuori Perché veramente Era Cupa Molto cupa Comunque Questo è il quattro È il quanto Fatemi sapere la vostra Su quello che pensate Mettete mi piace al video Perché non ve lo chiedo mai Ma fatelo E niente Ci vediamo prossimamente Domani Ovviamente Live reaction da Gianni Alle 20.45 Per Juventus Maccabi Haifa Poi nel mio canale Ovviamente Video post partita Di Juventus Maccabi Haifa Ovviamente Se domani non si vince Ciao girone Ok Ciao girone Questo è quanto Ricordiamo che Tra i tanti record positivi Che viene esaltato Allegri Ha il record negativo Che non siamo mai partiti Così male Nel giro Di Champions League Giusto per dirvi E anche nella stagione In generale Quindi Vabbè Detto questo Buona Continuazione a tutti E sempre comunque Fino alla fine Forza Juventus Io spero In un futuro Dopo Allegri Dopo Agnelli Dopo questi giocatori Dopo Che riusciamo A ritrovare Unità Di intenti Al di là Delle idee diverse Di calcio E entusiasmo insieme Perché adesso Manca l'entusiasmo Siamo l'uno Contro l'altro Anche per colpe Loro E per colpa Delle loro scelte Delle loro Dei loro litigi Del cazzo Che hanno avuto In società E delle scelte dovute A questi litigi Che hanno avuto E Allegri È uno di questi È una di queste cause Che ha aumentato Non è stata l'unica causa Ha aumentato Il nostro Diciamo La nostra divisione Nella tifoseria L'obiettivo comune Che dovrebbe Comunque Unirci Dovrebbe essere La Champions League Quello Al di là di tutto Senza tirare fuori Giustificazioni Ma gli altri Spendono di più No Quello dovrebbe essere L'unico C'è l'obiettivo Che dovrebbe Accomunarci Tutti Ok Come tifosaria Dovrebbe essere Sempre quello Il primo obiettivo In testa Della nostra tifosaria Ok Buona giornata a tutti